Ragazzi, anno nuovo, vita nuova, nuovo metodo di studio. Oggi vi spiego il metodo di studio che sto sperimentando a partire da questo inizio 2023 e lo spiego ovviamente in questo video. Wewe, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, sono Roberto Buonanno, imprenditore di successo e persona che cerca di spiegarvi come raggiungere successo nell'impresa, nelle finanze personali o nella vita di tutti i giorni. Perché mi interessa i metodi di studio? Perché io studio praticamente tutto il giorno, tutti i giorni, 7 su 7. Ebbene sì, io studio in continuazione, sono un grande appassionato di ogni tipo di formazione. Nel video precedente ho detto che per me tutto è formazione, anche guardare la telenovela Un posto al sole con mio papà, per dire, perché lui la guarda, io la guardo e cerco di capire cosa c'è da imparare. Comunque è una trasmissione TV che ha 3.000 passapuntate, 5.000, quant'è una caspia? Che cos'ha che cattura la gente? Perché è per tante persone così importanti sintonizzarsi a quest'oro, su questo canale, per vedere questi quattro che non sanno neanche per recitare così tanto bene? Cosa posso imparare da ogni esperienza della mia vita? Quindi non solo io cerco di imparare da qualsiasi cosa mi succede attorno, qualsiasi cosa io viva, direttamente o indirettamente, ma continuo a procurarmi nuove fonti di apprendimento. Corsi, videocorsi, libri, contatti con persone di successo, contatti con maestri, di ogni tipo, ok? Per esempio, ieri sono andato a giocare a padel la prima volta, io prima di entrare sul campo di padel ho studiato un'oretta di video YouTube su come si gioca a padel, questo gioco con la racchettina che sembra una padellina, io gioco a tennis, non è un caso che abbia una maglietta da tennis oggi, e non vado in campo se non ho studiato, ok? Non mi presento senza un minimo di preparazione e quando vado in campo poi metto in pratica, l'ho detto anche nel video precedente, studiare senza mettere in pratica non serve a un bene amato niente, essere dei teorici al giorno d'oggi proprio non serve a niente. Ecco, forse serve a fare video su YouTube come faccio io. Ok, a parte questo scherzo. Allora, che cos'è successo? È da tanto tempo che mi manca un pezzo nella mia formazione. Io ripetevo da tanto, tanto, tanto tempo, senza trovarne la cura, che, caspita, mi ripetevo proprio questa frase, se io potessi ricordare, non dico la metà, non dico il 30%, ma il 20% di quello che ho letto, sperimentato, studiato o vissuto dal punto di vista formativo, caspita, starei, mi sentirei un genio esagerato. E poi mi chiedevo, ma perché? Io molte cose che ho affrontato a livello di studio, ma anche di pratica, poi a un certo punto non me le ricordo più. Faccio un esempio, io programmavo in PHP, MySQL, facevo i siti, la prima versione di Tom Sardor Italia l'ho creata, io ho fatto un sacco di siti ad altissima complessità, adesso non saprei neanche da dove iniziare. E mi sono dato alcune risposte. La prima è che la mancanza di pratica ti porta a dimenticare tutto, no? Per esempio, se giochi a tennis e poi per sei mesi non ci giochi più, quando torni in campo ti senti di non aver mai neanche iniziato a giocare una volta. La seconda è che per quanto riguarda le materie meno fisiche, ma più, da punto di vista pratico, mentali, quelle più teoriche, no? Non nel senso che non abbiano un'applicazione pratica, ma che richiedono delle conoscenze da prendere, collegare, mettere in rete e far diventare in qualche modo qualcosa di tangibile a seguito di una elucubrazione, ok? Le classiche conoscenze teoriche scientifiche, insomma, per dire. Per quelle mi mancava un pezzo. E cercando, 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 sono finito a leggere questi contenuti sulla teoria del secondo cervello. Ora, mi ha fatto un po' ridere. Perché? Per molti il secondo cervello, per molti che seguono la cultura alternativa, la controinformazione, è l'intestino. Ci sono sempre più scuole che dicono che l'uomo ha due cervelli, ci sono delle cellule cerebrali anche nello stomaco, nella pancia. non sono molto preparato a riguardo. Quindi, quando ho sentito parlare della teoria del secondo cervello, ho detto, va bene, dovrò mangiare più libri. Ecco, no, non è così. La teoria del secondo cervello prevede che tu abbia una database universale al di fuori della tua testa, che vai a riempire, a popolare in continuazione, con delle tecniche specifiche che ti potrò spiegare nelle prossime 15-16 ore. Quindi, che cos'è il secondo cervello? Il secondo cervello è qualcosa che è stato teorizzato inizialmente da questo Luhmann, un grandissimo studioso tedesco, che nella sua vita ha pubblicato 70-80 libri e non so quante centinaia o migliaia di articoli scientifici, attenzione, quindi non stiamo parlando... lui faceva, mi sembra, sociologia, se non mi sbaglio. Ma roba pesante, non è che pubblicava i librettini da 20 pagine o la storia della signora Maria. Quindi questo Luhmann aveva creato un sistema con il quale metteva praticamente in una scatola tanti, tantissimi, centinaia, migliaia di appunti ordinati con un criterio ben preciso. Lo chiamava slipbox, cioè la scatola dei fogliettini, la scatola dei santini. Ora, adesso non sto a spiegarvi il sistema, perché è complesso, richiederebbe decine di video a parte. Io devo ancora iniziare a usarlo, quindi non ti spiego una cosa che non so. Io già inizialmente, però, prima di conoscere la teoria di questo Luhmann, praticamente avevo una mia modalità di prendere appunti e archiviarli in varie applicazioni. Io non ho mai usato il cartaceo, raramente, proprio perché il cartaceo per me aveva il difetto di non riuscire a avere la reperibilità universale che serve per qualcuno come me. Un giorno a Milano, un giorno a Dubai, l'altro giorno in aereo, un giorno al bar, e ha bisogno di accedere a tutte le sue informazioni per essere efficiente. Quindi, Luhmann cosa faceva? In brevissimo. È quello che consiglio di fare a tutti voi. Per avere un secondo cervello, quindi per accumulare informazioni che un giorno diventeranno sempre più utili e diventeranno un tuo vero e proprio database, una tua Wikipedia personale, però ritagliata su di te, devi avere sempre con te qualcosa su cui prendere appunti, che sia l'applicazione delle note del tuo telefono o un piccolo taccuino con la sua bella penna, ogni volta che tu hai un pensiero interessante, ogni volta che hai un pensiero che ritieni sia utile per la tua Wikipedia personale, lo devi scrivere. Benissimo. E poi? E poi devi avere un sistema che ti prevede ogni X giorni, ogni X settimane, con una frequenza però fissa, che ti metterai seduto a tavolino, guarderai tutte le note prese sul taccuino, sulle note di Apple, sulle note di Samsung, sui fogli volanti, tutte cose che tu hai messo da parte, le analizzi e le fai diventare degli articoletti, degli appunti un po' migliori, scritti quasi come se fossero dei piccoli trattatini scientifici su quell'argomento. Ok? E poi cosa faceva lui ai tempi? Lui creava delle schede di carta, usando i classici fogliettini, quelli così, adesso non mi ricordo come si chiamano, le chiamano index card in inglese, e con questi, su questi fogliettini, lui scriveva una primitiva versione di link, come quelli che abbiamo oggi su internet. Quindi questo Luhmann prendeva delle specie di fogli, di cartoncini, con i quali creava degli indici, e poi, nelle note finali che lui traeva da tutto quello che aveva raccolto nel corso dei vari giorni, prima di arrivare alla revisione del materiale, nelle note metteva dei veri e propri collegamenti, e fisicamente le note nell'archivio le metteva vicine in base alla loro vicinanza d'argomento. Facciamo un esempio pratico. Io studio molto la parte dei social, vedo un post al sole, e vedo due o tre situazioni che secondo me sono interessanti e da studiare nella parte dello sviluppo dei miei youtuber. prendo l'appunto, lo prendo sulle note del mio iPhone, scrivo, faccio, metto lì, poi vedo altre trasmissioni interessanti, poi guardo un canale YouTube che fa critica di trasmissioni TV, prendo altri appunti, metto da parte l'URL del canale, l'URL di uno specifico video, poi ascolto una predica di un pastore che parla dell'effetto che hanno certe trasmissioni sulla mente delle persone. Benissimo, segno anche quello. A un certo punto faccio la revisione del materiale, io posso usare dei link, posso usare, che ne so, Evernote, Obsidian, Rom, queste nuove applicazioni esagerate, Notion, ci sono applicazioni adesso che fanno cose pazzesche. Il Dr. Luman cosa faceva? Quando poi trascriveva da tutte le varie note e faceva dei veri e propri articoli già pronti, succinti, ma già ben scritti, nella scatola li metteva questi articoli uno vicino all'altro, numerandoli, che ne so, articolo 11, poi ne usceva uno vicino, articolo 12, poi caspita, usceva uno che era però più relativo all'11 che al 12, 11A, 11B, 11C, e così aveva praticamente creato la sua Wikipedia, però la sua, la sua personale, non quella di qualcun altro, quella con le sue considerazioni critiche, i suoi pensieri, le sue osservazioni, i suoi collegamenti, e tramite l'accesso a queste scatole delle meraviglie, lui ha scritto 80 libri, cioè trattati scientifici, non roba da poco. Quindi sto iniziando anch'io a seguire questa situazione, ho ovviamente comprato l'ennesimo corso di questo Tiago Forte, che non vi consiglio per adesso perché ancora non so se è efficace, che tratta proprio questo argomento, quindi sono proprio curioso di vedere come andrà e ho iniziato già adesso, adesso quando io studio, grazie anche a questo oggetto fenomenale che è Kindle Scribe, che è il primo lettore di Kindle che fa anche la scrittura, è questo qua, vedete, è una cosa esagerata, adesso io con questa gesù qui ho cambiato praticamente la mia modalità di studio. Perché? Perché prima avevo quasi smesso di leggere e facevo solamente ascolto di contenuti audio e l'ascolto di contenuti audio lo facevo, ho dei videocorsi, però io li ascoltavo più che guardarli, tranne quando c'è da vedere cose come formule, parole straniere che devi proprio guardare come sono scritte o formulate, ascoltavo, facevo solo la ripetizione per mandare a memoria le cose e poi un giorno fare in modo che la mia mente inconscia avesse immagazzinato tutti i contenuti e la mia mente consciattivamente facesse i collegamenti. perfetto. Adesso ho aggiunto questo. Con questo oggetto qui io tutto ciò che ho come libro cartaceo lo vado a scaricare come ebook tutto ciò che ho come audiolibro se non ce l'ho già lo scarico come ebook leggo appunto leggo appunto leggo appunto e appunto a mano appunto a mano grazie al fatto che questo oggetto scrivi con questo oggetto scrivi come con un vero e proprio quaderno con un vero e proprio tacquino quindi tu schiacci il bottone adesso si vedrà malissimo però ci proviamo quindi abbiamo una nota nota vado qua sto appuntando questo libro e scrivo così ok è una scemenza l'ho scritta qua ok però per dire questo è un esempio di come sto lavorando adesso ho questo cosa in mano ho un libro vero in mano prendo note le prendo adesso digitalmente qui perché? perché è come scrivere sulla carta quindi ha l'impressione di scrivere su carta è uno schermo di tipo e-ink quindi inchiosto elettronico quindi non stanca gli occhi mi permette di studiare anche 7-8-10 ore al giorno senza devastarmi gli occhi come facevo prima con l'iPad e lo schermo del computer e tutte queste note in automatico mi finiscono in un sistema tutto collegato con varie applicazioni che non sto a dirvi adesso e a un certo punto io me le ritrovo tutte nella mia Wikipedia personale che nel mio caso sto creando con Evernote perché? perché io Evernote lo uso da più di 10 anni quindi già contiene un'enorme quantità di miei appunti di riunioni di appunti personali e di centinaia di altre cose che ho segnato nel corso della mia esistenza quindi sto applicando questa nozione del secondo cervello perché ho notato che mi mancava un collegamento pratico tra quello che studiavo è quello che poi effettivamente mettevi in atto nella mia esistenza siccome io tuttora mi ritengo un divulgatore per me sarà sempre più importante scrivere libri fare video qui con voi insegnare ai miei ragazzi ai miei collaboratori alle persone che lavorano per me per le mie aziende a chi si rivolge a me come coach a chi si rivolge a me per avere consulenze a qualsiasi livello per imparare qualcosa dell'imprenditoria dei social di qualsiasi cosa io posso insegnare avevo bisogno di avere il mio wikipedia personale il mio database universale personalizzato sto iniziando a crearlo e già adesso ritengo di avere della capacità di ritenzione che prima non avevo ok alla base di tutto questo c'è un concetto fondamentale ok secondo la teoria del dottor Luma secondo la teoria anche del secondo cervello per imparare devi scrivere e quando non stai studiando con una penna in mano l'efficacia del tuo apprendimento è molto inferiore molti convengono sul fatto che ciò che tu non sei capace di sintetizzare per scritto non lo hai veramente capito ok quindi cosa vuol dire se tu ascolti o leggi ascolti un corso o leggi un libro e in quel momento trovi un punto che è interessante e ti fermi e sintetizia con parole tue cosa significa per te per la tua esperienza le tue correlazioni il tuo lavoro il tuo studio la tua posizione in questo momento quello che tu sai solo così potrai imparare a mettere a memoria e io sto effettivamente memorizzando molte più cose nel modo migliore possibile quello che mi permette anche di fare correlazioni con altri argomenti che già conosco siamo in beta ho iniziato da solo una quindicina di giorni quindi non so dirvi se funzionerà oppure no ma se quest'anno vedrete uscire uno, due, tre libri nuovi e tanti video un po' più interessanti magari stanno anche in merito del mio secondo cervello l'altra teoria alla base del uso di un secondo cervello quindi di un archivio esterno per immagazzinare tutte le tue conoscenze è che il nostro cervello deve essere usato per i collegamenti e per i ragionamenti e non per la memorizzazione infatti si racconta di questo aneddoto di questo giornalista non mi ricordo se russo o tedesco che aveva l'incredibile capacità di ricordare ogni singola memoria di ciò che gli veniva detto e di ciò che leggeva il problema suo però era che non riusciva ad attivare quelle informazioni non riusciva a renderle utili perché lui non aveva in testa la sintesi di cosa questo contenuto significava per lui ma aveva in testa esattamente le parole scritte nel libro e proprio a questo punto il principe aveva preso fuoco e si era messo a gridare parole sconvenienti non aveva scritto non aveva in testa attenzione il fuoco brucia era scemenza ok devo ricordarmi che il fuoco brucia devo ricordarmi di usare i guantoni quando prendo le cose dal forno ok aveva in mente le singole parole e quella è una teoria che è molto pericolosa quindi buttare a memoria dei contenuti senza averne fatto una analisi critica personalizzata di quello che per te è il significato di quelle cose nell'ambito della tua intera conoscenza olistica non è un vero apprendimento secondo questa teoria non so cosa ne pensi tu a me stai iniziando già a dare dei frutti quindi adesso vi aggiornerò su questa teoria del secondo cervello è la mia sfida di quest'anno molti mi chiedono perché continui a studiare nel senso hai avuto la tua carriera hai fatto le grandi realtà hai creato aziende milionari hai fatto delle exit hai fatto un sacco di cose pazzesche che cavolo studia ancora perché non stai su una spiaggia col ciringhito a berti cocktail perché nella vita o si va avanti o si va indietro non esiste la stasi quindi la vita l'esistenza prevede per le forme di vita solo due stati la crescita o l'entropia la decrescita e la morte siccome il secondo stato a me non interessa particolarmente ancora per parecchie centinaia d'anni preferisco stare sempre nello stato della crescita ovvero ciò che cresce vive per sempre ed ecco perché io studierò ogni giorno la mia vita finché me ne sarà data la possibilità